Buonasera signor Gabbani! Ciao Chiara! Buonasera! Buonasera, ciao! Scusi eh, ci vuole un po' di pazienza perché sono venuta a piedi. Eh ma infatti a piedi sei venuta? Sì perché mi piace. Scalza proprio. Guardi che bei piedini che ho. Bellini, vero? Perché mi piace stare a contatto con la madre terra. È giusto, a noi ci piace questa cosa. Poi sai che insomma gli ospiti che vengono qua da noi ci portano il loro fiore simbolico. Sì, e il fiore simbolico oltre questo, oltre questo tronco. Questo non è simbolico, però lo vediamo, è un fiore fantastico. È l'invito a camminare a piedi. Bello, è importante. È importante perché fa bene, ovviamente fa bene all'ambiente, ma ci fa bene anche a noi. È il fisico. Sì, fa bene a noi, fa bene alle nostre terga, ci rende sode. È terga? Sì, è terga. È terga, perché insomma è sempre importante prendere due piccioni con una fava. Sempre è importante. E quindi bisogna essere sostenibili, ma anche eleganti. Quindi signor Gabbani mi sostiene un attimo. Ti do una mano, volentieri. Sì, guardi, lei è un'aquila. Mi dovrebbe dare anche un braccio. Ah, ma te lo do volentieri, te lo do volentieri. Perché mi devo mettere queste scarpette così da attuare la trasformazione. Sì. Aspetti che ora casco. Sì, questo, facciamo così. È proprio questo il momento. È proprio questo il momento. Sì. Ma è un attimo la trasformazione, ecco. Questi fino sta bene? Sì, sì, sì. Mi si appiccica, me lo mette un po' meglio. Certo, volentieri. Così, così, così. Me lo spiccia. Grazie. Un fiore, proprio un fiore. Ci vuole un fiore. Adesso sono pronta ad essere finalmente presentata a Modino. Eh vabbè, ma l'ho già fatto, Chiara. Ti ho presentato la benvenuta. No, signor Gabbani, lei mi ha presentato agli ambientalisti. Adesso, con questo tacco 12, questo tronco di figliola deve essere presentato anche al mondo della moda, perché bisogna essere versatili. Va bene, ho capito, ho capito. Allora, è con grande piacere che do il mio più caloroso benvenuto alla elegantissima e affascinante e bellissima e bravissima e glamour e strepitosa e incredibile e... Basta, dai. Basta. Chiara Francini. Grazie. Quanto mi piace quando le persone sono così spontanee come il signor Gabbani. È vero. Però, insomma, basta perché comunque sono umile come tutte le attrici di teatro. Senti, Chiara, io ovviamente sono molto, molto contento che tu abbia accettato il mio invito e sono anche pronto a qualunque cosa tu voglia dirmi. E fa bene, signor Gabbani, perché io debbo sculacciarla. Di nuovo, mi devi sculacciarla. E per me a cosa combinavo? Perché sì, perché lei si erge a paladino dell'ambiente, della natura, però poi che fa? Lei mi parla soltanto degli animalini bellini. Eh, che ride, dei cucciolotti. Ma invece, dove li mettiamo gli animalini brutti? Gabbani, lei ha fatto un grande errore, quindi io adesso vorrei rimediare. Vorrei provare a far diventare questo programma finalmente inclusivo. E vorrei fare un omaggio, un omaggio a questi animalini brutti che lei non ha considerato. Va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Ci spostiamo sull'organo? Sì, sul pianoforte. Ma perché ci suoni qualcosa? No, signor Gabbani, lei mi accompagna, altrimenti che cosa ci è venuto a fare? Ah, vabbè, certo. Hai ragione. Vabbè, mi, 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 mi... Vabbè, al tuo servizio, al tuo servizio. Proviamo. Allora, io adesso farò una grossa, grossa performance, ribadisco, per rendere inclusivo una performance veramente di alta, alta caratura, eh. Vabbè, qua le aspettative si stanno creando, alte, grandi... Allora, intanto mi faccio una nota un po' alta, perché devo far prendere un po' aria al diaframma. Tipo questa può andare... Sì, allora, mi faccio un pochino tra Bach e Tiziano Ferro. Eh, ci provo. Troppo Bach, meno Bach, più Tiziano. Un po' più Verdi, un po' più Verdi. Verdi, Verdi. Perfetto. E adesso provi a riprodurmi, a pigiare i tasti, a riprodurre una melodia che segue tutto questo. Sì. Pa, 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 pa. L'ho capito, ma questa però è la vecchia fattoria. Io, io... Cioè, abbiamo detto che facevamo una cosa con una caratura intellettuale per tirare su le sorti. Guardi, guardi, signor Gabbani, lei mi fa veramente pena. No, glielo dico sinceramente. Sì, perché è molto facile riuscire a fare delle cose grandiose quando si hanno dei materiali alti, Ma la vera magia sta nel fare opere grandiose quando si hanno dei materiali casarecci, selvatici, un pochino terra terra Sì, è vero, va bene, va bene, ti seguo, ti seguo, capisco il concetto Nella vecchia fattoria c'è la rana titicaca, c'è la rana titicaca, cacaca, cacaca Però aspetta, la rana titicaca, ti cacaca, cioè suona male, no, 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 non c'è un altro Un altro, proviamone un altro per favore Ok, 3, 4 Nella vecchia fattoria Ia ia o C'è il cacacacacapo Cacacacacapo Però il cacacapo Siamo da capo, il cacacapo Anche questo suona proprio Ma non è quella che è proprio la questione È una questione di cacofonia Non sono inclusivo Un altro, fammi questo favore Proviamone un altro Triforne Nella vecchia fattoria Ia ia o C'è la scimmia nasica Na na nasica Faccia la scena La scimmia nasica E ciù E ciù E poi vabbè nasica magari ha anche il raffreddore No? No Vabbè dai andiamo avanti Io ce la metto tutta Lei mi sta completamente rovinando questo maggio Agli animalini brutti Adesso andiamo avanti per favore Con l'eterocefalo glabro Vabbè mi sembra un po' lunghino Mi sembra un po' lunghino Eterocefalo glabro Lei scorda che io sono un'attrice di teatro Ah no certo giustamente È vero è vero Infatti ho piena fiducia Allora proviamo Triforne Nella vecchia fattoria Ia ia o C'è l'etero 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 No bene però L'eterocefalo glabro Capisco vabbè Va bene Signor Gabbani guardi Che cosa vogliamo fare Vorrei fare una summa Quindi facciamo una summa Mi attacchi Ci proviamo Triforne Nella vecchia fattoria Ia ia o Quante feste C'ha la buonazia maria Ia ia o C'è la scimmela zika Mica 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 C'è la rara Il pizzata Titica Caca C'è l'etero L'etero Glabro 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 E Nella vecchia fattoria Ia Ia O O O O O O Straordinario! Ma straordinaria tu! Chiara Francini! A Cimone un fiore! Grazie per averci portato il tuo fiore! Che senso? È come questo... il tuo fiore simbolico. Ah, simbolico! Simbolico! Grazie signor Gabbani, grazie! grazie a te Chiara veramente grazie per la tecnologia grazie ma io mi trovo sempre a mio aso a comunicare con le bestie grazie Chiara Francini